Buongiorno Matt, buonasera, cambiamo il titolo e faccio anche una storia Perché io sono pazzo, io sono cazzo pazzo, questo è il momento Bertra, capite? Cioè il momento Bertra è pieno di cose Il momento Bertra Gaming Il momento Bertra Gaming non esiste più Ragazzi buonasera, sono in live adesso con Danny Dorito e... Facciamo acquisti su Wish, quindi passate subito Acquisti su Wish in live, punto esclamativo Wow cazzo fratello questa cosa è pazza, cioè fratello Bertra pazzo con la merda nel cervello, fratello io non c'ho la merda nel cervello Cioè fratello capisci che io sono pazzo, io sono cazzo pazzo Io mi sveglio e dico wow cazzo quanto sono pazzo Fratello è una cosa incredibile Stamattina mi sono svegliato e mi sono cagato nei pantaloni E ho detto cazzo Cioè voi capite quanto cazzo sono matto? Scusate, ora smetto, giuro su Dio Bertra X di Max Ma non è vero, non so doppiare così bene Io ho solo 500 euro, capisci che sono povera Non posso fare un cazzo nemmeno lavoro Puoi fare la sub di amichetti con 500 euro Puoi fare la sub di amichetti per più di 100 mesi Quindi, cioè capisci, è importante Sono quasi 10 anni Io lo farei, io lo farei Io onestamente farei la sub di amichetti E anche voi amici potreste fare la sub di amichetti Con solo 4,99 euro No, 3,99 euro al mese E questo vi aiuterà perché potrete finalmente fare sesso In chiaro che stasera mi vorrei sbronzare a merda Faccio una bella posa con quella maglietta fashion Ok, fatto Allora Acquistiamo le cosine su Wish Quindi la prima cosa da cercare è palestra Vi ricordo che se volete comprare qualcosa su Wish Utilizzate il mio codice CXMXVQV Così mi date dei soldi Dunque LOL alcolico Mela, stacce No, Orni, please Oppure aspetti che volcani ma buona te da regali Vabbè, quello che fanno i poveri Materiale per meme su Reddit lo abbiamo Allora, ma io non Stacce Prima cosa da acquistare Decisamente Questi manubri secondo me sono brutti 2x30 kg Sono manubri da 30 kg componibili E la madonna Ma io non voglio spendere 34 euro Stacce Che voi Voglio le cose da povero io Allora Iniziamo dalle cose importanti Le cose che non costano tanto Quindi Questo Che cazzo è questa roba Five knots only no ball Ah, cioè questo è solo l'allunghino Amiga, questa 23 euro sta stronzata Ma che cos'è sta roba? Mezz'ora al giorno devi fare Figa, è terribile Ma cosa vuol dire? Cioè Cosa vuol dire? No vabbè, questa è una merdata Sembra un plug anale Tra parentesi Allora Le bande Le bande posso acquistarle Bande elastiche Strength in libre ovviamente Ma chi cazzo conosce le libre raga? Ma che cazzo ne so? Vabbè Traduciamo il peso di sta roba in Libre Tu Kilogrammi Cinque Sono due chili Dieci Sono quattro chili e mezzo Ok, questa fa così 30 e 40 Allora che cazzo è scusami 13 chili 18 chili Vabbè Bono Set di due Set di uno Set di uno Set di due Costano identici Com'è possibile che costino identici? Cioè Cosa Cosa mi rappresenta? Natural latex Viene da un albero Set di due È così E set di uno Cosa cazzo cambia? Prendiamo il set uno Perché Boh Sborra d'albero Come I nostri Oggetti Sono fatti Di deliziosa Sborra d'albero Utilizzali anche tu Per Eh? Dicevamo Dicevamo Ah Fanno bene Per Le spalle La schiena Le ginocchia E le caviglie Ma che cazzo vuol dire? Ma non è vero Ma è uno scam Vabbè Acquistiamolo Costa nove sbleuri Nove interi sbleuri Gli americani Quando il peso è specificato In chili E non in fagioli Gommosi colorati Poi Per allenarci No vabbè Questa è la cosa più bella Di tutte No vabbè Questa è la cosa più bella Di tutte Scusate Cioè Raga Cos'è questa Porcata Immonda È troppo brutto Raga Questo lo desidero Stefano l'ha acquistato Dice Prodotto ottimo Per qualità e prezzo Vabbè Ma io sono innamorato Puoi fare Allenamento Dell'addome Non è vero Fai esclusivamente Dorsali Così Cioè Il lombare basso Allenamento di gambe E per come lo sta facendo Si fai un pochino Di Tricipite femorale Shoulder training Stai facendo soltanto Il deltoide anteriore In questo modo Arm training Per come lo sta facendo così Non sta neanche allenando i bicipiti Vabbè Incredibile È troppo bello Troppo bello Immagina che si si rompe E ti sfigura la faccia Vabbè Porca puttana Non dirlo così Di che colore lo prendiamo C'è rosso Giallo Viola Verde Blu Non c'è arancione Quindi vabbè Prendiamolo rosso Pedire Pedire Ciao ciao ragazzi Poi ci sono I roll C'è un'intera Scusate Voglio vedere Questa panca piana Panca per pesi Regolabile Da 180 kg Vuol dire che 180 kg È il peso che può reggere Perché io non ci metterei 180 kg su sta roba Cioè è troppo palese Che si spacca In mille pezzi Il prodotto è 100% Nuovo e aggiustabile Color mela Stace Rallo Io di sto coso Non mi fido La panza Ma cos'è Ma è orribile Cos'è che ci puoi fare Ah c'è anche questa Barretta di merda O sbaglio No qui non c'è più Ma cos'è questa roba Cioè se io faccio panca piana Non voglio sta roba In mezzo al cazzo Ma cosa mi rappresenta Scusate ragazzi Sono distrutto Cioè questo Ma poi c'è No vabbè Ah no che qui non ce l'ha Cioè puoi mettere Questo supporto qua Che ti fa Ma ti fai solo male È una porcata immensa Troppo noi amo Andiamo avanti Ci sono dei pe... No vabbè Questo diventa anche un... Sono sia manubri che bilanciere Ma che hit 10 chili massimo Ti costa 30 euro Guarda Ma magari no Questo è notevolmente cinese Cioè Ah c'è anche questo da 51 Che però pesa 20 chili Dai Con queste foto Tutte sconnesse di gente muscolosa Bello 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 Wish Ma un bell'outfit per la pale Sì sì Adesso prendiamo Prendiamo anche l'outfit per la pale Cioè letteralmente Soltanto il Che si chiama La corda per i tricipiti Che viene fatto vedere In un esercizio per i bicipiti Mi fa molto ridere Però Questo mi sembra abbastanza legit Cioè È brutto Però c'è Esiste Vabbè Va bene Allora cerchiamo qualcosa di decente Uno spray All'erba I materassini Per non fare male Questo Beh questo è sportivo Cioè È onestamente sportivo Questo coso Che non so cosa sia È per il sesso Serve per fare il sesso Serve per fare il sesso È un po' difficile da mettere Ma penso che Sia bellissimo da vedere Mette la sua mail Per più foto E informazioni È palese che siano foto Del tuo cazzo Quelle che mandi Questo è davvero sexy Questa cosa è troppo cringe Scusate Non penso che la prenderò Sono 6 euro Che non avrei mai più Questo potrebbe essere interessante La pull up station 70 euro Iper 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 Terrificante Non so quanto mi fidi Anche di questo Guarda quanto è photoshopata male Sta tipa Come hanno fatto a photoshoparle Così male Raga Come hanno fatto Come Come Porca puttana Ebbè Ci puoi fare i push up Effettivamente Sì Posso fare i push up Anche su un cestino Della pattumiera Che c'ho qua dietro Raga Cristo benedetto Diversi tipi di esercizio Puoi fare stretching Puoi Guardarti indietro Con la tua mano photoshoppata Molto male È stabile Perché uno pesa Non ho capito Scusa Ci sono Una Due Tre Quattro persone Uno pesa 68 chili Uno pesa 70 chili Uno pesa 64 chili Uno pesa 63 chili E un altro pesa 61 Grazie a Luca Proprio il secondo mese In quello di prima Nei commenti Uno si chiamava Cochi Quello di cui ho letto Il commento letteralmente Uno si chiamava Asterisco Asterisco Ah no perché c'è anche un altro È nascostissimo Che non si vede È Wow Incredibile Tiene su Delle persone Vi giuro che lo comprerei Se non fosse che non ho spazio in casa Lo comprerei È lungo 82 cm Per 75 Quindi è Una roba così 69 euro Il Mao Però per oggi non lo comprerò Posso comprare una bellissima maglia Sì dai Oh mio dio Sì è troppo trash Oh mio dio è troppo trash Assolutamente sì Pure con l'elmo da spartano Perché io uso grosso Cioè Lo prenderò Non XXL Perché non mi sta Prendo M Ce n'è soltanto 11 Bianco Giallo Grigio Nero Rosso Trashissimo Mi piace Troppo io raga Troppo io Lo acquisto istantaneamente Poi ci sono le basse da polso Ma quelle in realtà le ho Questo mi ispira troppo Questo l'ho visto in un sacco di video Mi fa troppo ridere Secondo me è una stronzata Però è troppo intrigante È una roba per 14 diversi tipi di push up Ci sono i push up per la schiena I push up per le spalle Quelli per i tricipiti E quelli per il petto Cioè Troppo noi Troppo noi amo Ma è Danny Lazzarino Ma è Danny Lazzarino Eh questo l'ho visto su un sacco di TikTok Il blu fanno i muscoli Il blu Il blu fa i muscoli Il rosso fa la spalla Il verde fa i tricipiti Il giallo Anzi no I dorsali È troppo scritto male E poi è sbagliato Perché Il verde fa la schiena Il blu fa le spalle Il giallo fa i tricipiti E il rosso farebbe il petto Hanno sbagliato Tutto Tutto Non hanno azzeccato una cosa C'è anche Ah no c'è soltanto Unlucky Ottimo Arrivato puntualmente C'è la push up board Con due handles Mi fa troppo ridere Dai la compro raga C'è è troppo una porcata Per non comprarla È troppo una porcata Per non comprarla Poi ci faccio i TikTok Va bene ci faccio i TikTok Promesso C'è il Per misurarsi Per vedere quanto sono spisso Centimetri Dai C'è Dai Lo prendo per vedere Quanto divento grosso Daie Daie namo boys Allora io poi avevo Se non sbaglio Aspettate un secondo Ah io le ho ancora Quelle che avevo preso Nel video di Wish Le bande elastiche brutte Quindi queste ce le ho già E ovviamente Le andremo ad utilizzare Ci mancherebbe Assolutamente Assolutamente Questo perché è per la palestra Ah è un Pedale per la chitarra Giusto È per la palestra raga Perché sì È Assolutamente C'è un'intera cyclette C'è un'intera cyclette E costa 185 euro Ma che cazzo E poi è Ah no vabbè No si cambia ogni volta Cambia ogni volta La bici che c'è Va bene Non penso che lo comprerò Poi Eh questo sì È un po' diverso Ma serve per la No è la stessa roba Alla fine Non comprerò altre Birulette identiche Questo che cazzo è scusa Ma cosa vuol dire Ma cosa serve Oddio Ha il Alla ventusa Ma che porcata Che porcata Non ci credo C'è la cosa più stupida Del mondo Cioè questo aggeggio No vabbè Una stronzata Io sono distrutto Leg shaping Waist shaping Butt lift Strengthen Letteralmente puoi fare solo addominali Ma fa un sacco di cose Questa è la Peggio porcata Raga Non basta ficcare I piedi sotto il divano Sì ma basta anche letteralmente Allenarsi finché non serve Perché ci metti dieci Dieci giorni di addominali E non devi più Fermare i piedi Per farli decentemente Bellissimo No dream no gain Molto bello Questo è figo Cioè questo è interessante Il culo Fai vedere il culo Facendo vedere Lo squat Che è un esercizio Che non Cioè che non è Particolarmente Un allenamento di culo Voglio togliere questo mito Voglio sfatare questo mito Lo squat Non è l'allenamento migliore Che vuoi fare se vuoi avere il culo Migliore Va bene raga Cioè io vi dico questa cosa Lo squat Non è L'esercizio Se volete il culo migliore Lo squat Per la maggior parte È Se non sbaglio Tricipite femorale Eh Sì è cosce Tanto tricipite Tanto bicipite femorale Più che il culo Cioè Il culo penso sia una delle ultime cose Qual è il migliore Uno dei migliori esercizi Che si può fare è questo Ragazzi Ve lo faccio vedere Perché mi dà fastidio Questa disinformazione Allora vediamo se si vede abbastanza petera Sì dai Si vede un po' Voi vi mettete sdraiati Adesso vi farò malissimo Vi sdraiate Vi mettete Qualcosa Anzi in realtà Anzi in realtà anche senza E fate questo Tenendo bene qua E fate questo Letteralmente È un migliore esercizio Dello squat Per il culo Meglio il culo maschile Sì condivido Assolutamente grande fan Di questa cosa Il mio culo è molto meglio Di tutti Che brutto movimento È il movimento del sesso Ragazzi State facendo sesso So che per voi è difficile Ma è il movimento del sesso Porca puttana Però carino questa roba Che puoi fare Cioè ti fai gli squottini Cioè è simpatico Bertr audio Audio? Ah Cosa? Audio? Allora non faccio più Questo esercizio No orni no sex Eh vabbè me la fa il cazzo Che ti pare Che te sei in culo Porco due Scusate Eh? Poi vediamo cosa c'è I guantini Oh questo No io lo amo Perché deve costare Undici sbleuri Io adoro questo aggeggio Teniamoli in forse Per dopo Scusatemi È orribile il fatto Che questa banda Si chiami Sweet sweat Oh sì Il dolce sudore Scusate Eh? Non volevo dire Questa cosa ad alta voce Ma tra parentesi È una roba per far dimagrire la pancia Posso sfatare un altro mito? Non esiste la perdita di grasso Targettizzata Non esiste Non puoi perdere peso solo Cioè non puoi togliere il grasso solo da una parte del corpo perché hai deciso Non esiste Non funziona così Il corpo umano non è pensato per questa cosa Ok ho detto tutto Porca puttana È una roba È una roba che mi triggera a morte Ve lo giuro Queste potrebbero effettivamente servirmi Per quando faccio deadlift Perché ho i polsi belli fragili In realtà Il Mao Non sarebbero male Lo ha detto il guru dello sport Bertrand No lo dice ogni persona che sa qualcosa di sport Non sono il guru di niente Ma mi informo E ragazzi Non esiste la perdita di peso targettizzata Tu perdi peso Perdi grasso in generale E te va via dal corpo Zio Pera Bello questo Cioè se non è male Questo me lo prendo per davvero Unaironically 30 cm Cioè 30 cm Quelli sono almeno 50 Cioè perché 30 cm io li conosco bene Cioè Eh? Dai Me li compro Ovviamente rossi Perché sono Sono pazzo E allora perché da certi parti Non se ne vuole andare Perché ognuno di noi Ha un determinato Cioè Ognuno Ha posti dove perde più o meno peso Io banalmente Al momento Non ho peso Cioè non ho grasso tipo Sulle braccia Vedete È pelle Non ho niente Ormai sono È tesa Sulle gambe stessa cosa C'ho le gambe Iper Iper Magre Però c'ho la panzetta C'ho un po' di panzetta qua E non se ne va E va bene Cioè Ognuno c'ha i suoi lati C'ho le maniglie dell'amore io Perché non faccio l'amore Comunque andando avanti Questa in realtà Mi ispira un sacco Perché L'attrezzatura per il fitness Della palestra Del rullo addominale A due ruote Della ruota addominale Del muscolo Del muscolo Porca puttana L'allenamento Della ruota Del muscolo Perché c'è una macchina Perché sono le ruote Di un'auto Ma che cazzo vuol dire Wow Sono muscoloso Wow Sono un jaguaro Wow Adesso scopo Il muscolo Della ruota Cioè Costa 13 euro Però mi sta troppo sul cazzo Raga Ve lo devo dire Una rush guard Cazzo Potrebbe servirmi Una rush guard Ironically Questo invece È smart No vabbè Ti conta le cose Questa secondo me È la peggio porcata Raga No vabbè Questo è troppo stupido Devo essere honest È troppo stupido Adoro Costa 40 sbleuri Una ginocchiera Questa mi serve Perché ho il ginocchio Fatto di pongo Dio buono Oh Oh mio dio Allora raga Se arriviamo a queste 15 sub Ne compro una E poi vado nella mia palestra Di jiu jitsu Con una di queste cose E mi faccio riempire Di botte Cioè ragazzi Jiu jitsu Con il leone Con un cazzo Di pitbull brutto Con un asino Perché Il panda Il toro Queste cose Sono dei furri Ragazzi Sono dei furri Questa è una tartaruga ninja Cintura nera Con tre tacchette pure La tigre Un altro pitbull Perché grr cattivo E lo squal Lo squalette cattivo Grr 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 Ce ne sono altri C'è King Kong Grazie Busta di feci Che bel nome fra No furri Cioè Questa è una È una È una Puzzola raga È un Ma che cazzo Vuol dire È la puzzola Brasiliana Che dice Don't give a damn Poi c'è Il rinoceronte E poi c'è Il facocero E poi c'è Anche la riete Porca puttana Il tasso È un tasso È vero Non è una Puzzola È un tasso Zio Pera Tasso furri Tasso furri Sì Troppo motivato Con questa maglietta Io no Onesto raga È troppo una porcata Mamma Io adesso È proprio una merda Wow Un enorme Tappetone Fino a due metri Di Che cazzo vuol dire Gli altri sono alti Un metro e ottantacinque Questo è alto Due metri E c'è un uomo Muscoloso davanti Che merda Tra parentesi Cioè è proprio Plasticoso Puoi farci i plank Puoi farci dei plank Leggermente diversi È Va bene Va bene È un tappeto Lungo La maglietta Con scritto Alpha Non ci credo Io non ci posso Credere Che poi è È photoshoppata Sopra la scritta Alpha Mi fa troppo ridere No vabbè Questa è la cringiata Più grande Che un uomo Possa comprare Che è un essere umano Vediamo se un italiano L'ha preso No nessuno l'ha preso Che porcata Fai la maglietta Con Sigma Oh sì Faccio la maglietta Con Sugma Sagondiz Fa malissimo Sta roba raga Cioè quanto male Può fare Se urla in sto modo Il fra Cioè Sta soffrendo Sugma e Ligma Le colonne Le colonne Il supporto lombare La cintura Che tra parentesi Sta usando Per fare i bicipiti Lui Cioè lui sta Lui sta Cioè lui Lui sta facendo Due bicipiti Con il supporto lombare Va bene Cioè ci sta eh Secondo me sta roba Non serve a niente Sembra sottilissima Oddio che bella No vabbè La pallina Per fare i pugni La voglio Una palla Più una banda Una palla Ma c'è Una Sono tutte uguali Ah no Questo è un set di palle Ce ne sono diverse Ah Tipo questa è più pesante Queste sono Due identiche Questa è una palla Da tennis Questa è una palla Da tennis Ah perché una è la banda Di cosa E una è di silicone Non cambia un cazzo Non lo so Questa costa 3 euro Mentre questa Costa 8 euro Ah Questa costa 7 C'è la palla più pesante Dai prendo questa Raga No non è vero Non voglio quella Scherzavo Scherzavo Volevo Scusatemi eh Voglio Togliere questa Rimuovila Rimuovere Sì Voglio quella Che costa meno Già sto spendendo 80 euro Ma che cazzo vuol dire Raga Ma che cazzo Voglio tornare indietro Come cazzo faccio io Porca troia Ok No dimmi che sei azzerato Porca troia Devo ridiscendere Vai giù Vai giù Molto bello E utile per i riflessi Ah c'è un culo Scusate Mi sono fatto distrarre Scusate ogni tanto Il mio cervello si spegne Dove cazzo era Ma se hai smerdato tutto Non la troverò mai più Che palle raga Ma che fine ha fatto Ma no Ma zio pera 80 euro di mischiate Sì sono terribili mischiate Sono appena entrato in live Pensavo che quella fosse Quella roba che si mette in bocca Quando scopi Ah yes La gag ball di Wish E questo scusate Braccialetto per terapia magnetica Da uomo in acciaio inossidabile di lusso Gli ultimi sette in 1374 pezzi Di bracciale con elemento di terapia magnetica Doppia forza in pietra energetica Antidorifici per artrite Sì Cioè Lo penso anch'io che faccia benissimo sta roba Quindi tu sei tipo Dani Lazzarino Uguale Stessa cosa Però io faccio la terapia magnetica Quindi sono in realtà molto più forte E questi cosa sono? Ah i guantini del sesso Va bene Allora Onestamente Veramente si aspettano che io mi compri Il braccio per il sacco da box Da Wish E mi dicono che regge 100 kg Ma io mi fido Che io non ci credo Manco per sbaglio Che regga 100 kg sta porcata Ma manco Manco per sbaglio Allora io non so Però secondo me questo non fa Non è per lo sport Secondo me non è per lo sport Poi magari so io eh Però secondo me non è per lo sport Secondo voi Perché non lo so eh Non penso sia Ah è tutto cardio Ah ok scusa avete ragione Sono io scemo Sono io scemo No ce l'avete assolutamente ragione Questo costa 6 euro La palla La roba brutta che Costa di più rosa Cioè costa tutto di più tranne nero Ma non ho capito Scusate questo mi sembra Vabbè acquistiamolo È per uno sport diverso Ah scusate che non ho mai fatto il sesso Non so bene come funzioni Eccola qua la palla Dai 3 euro Love headband Ma c'è scritto love Ma cosa vuol dire Perché c'è scritto love Vabbè Prendiamola Ci proverò Ci proverò Mute exercise bike C'è una che fa yoga Perché dovresti fare yoga Se prendi una bici Brutta Tra parentesi Ma molto brutta Raga Ho raramente visto Una bici così brutta Mi sa che avevo ragione Su quella palla Sai che non ti do torto Cioè onesto Non ti posso dare torto Qui c'è lo spray Per le ginocchia rotte Olio del re tigre Thailandese Spray per Artralgia reumatica Dolori muscolari Stasi Cioè se siete nella Germania Dell'est Nel 1960 C'è Lo spray per la stasi Dolore alle spalle Al collo e lombare E basta Se ti fa male Qualunque altra cosa Sei fottuto Ti fa male qualcosa Cosa che non è lì Morto Morto secco Oh no Angela Merkel Non mandarmi la stasi a casa Oh no Oh no Posso far Posso sub fare io Certo duper super Puoi tu sub fare Le mutande a può Mi piacciono Questo è il nastro Kinesiologico No si Mi fido di comprare Cioè lo comprerei Troppo su wish Il nastro Onesto Mmm L'oggetto più maledetto Del mondo Il pad per lo squat Raga Non usate questa roba Non usate questa cosa Ve lo dico con tutto il cuore Perché Vi Prendete l'abitudine Di fare un posizionamento Del carico sbagliato E se E poi Una volta che Aumentate i carichi Rischiate di farvi male Alla schiena Tutti ve lo diranno Usatelo per Per Come si chiama Le hip thrust La roba di prima per il culo Per quello potete usarlo È Gucci as fuck È assolutamente Gucci Per lo squat È Da merda Cioè Non buono Oh si le cose Della Venom Cinesi Non ci credo Sono troppo finte Queste cose Della Venom Palese Che sono Fintissime Sembrano anche In realtà vere Però non ci credo Non ci credo Che è della Venom Palesemente Non è della Venom Che cazzo La vende Bastardi C'è Che cazzo è scusa È un coso per la tendinite Ma Che cazzo è scusate È per le pilicondite Ma È per il gomitino Ok Bertra ha perso la train Perché pagarne uno Quando ce l'hai gratis qua E fa pure ridere No no Se vi allenate Pagate uno vero Non me Io non sono vero Io so alcune cose Che ho studiato Ma Non ho nessun diritto Di dirvelo Oh mio dio Questa cosa è Il male Quanta è photoshopata Male tra parentesi La fra Anche qua Porca puttana Questa è Terribile Gesù Ma che cazzo Recensioni Non ci sono Ah questo è soltanto Il Il pillow Il mat costa Molto di più No Quel cazzo Io sono frutto Della vostra Immaginazione Sì 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 Assolutamente Consiglio Quando ti arrivano cose Da pochi soldi Su wish Puoi rimborsarlo In witch coin E comprare altre cagate Ah che figata Uh la banda di resistenza Per il pugno Carino questo Cioè Può avere un suo perché Simpatica Sembra un po' Una cagata Però Fa ridere Altra roba Della Venom Finta Bande di vario modo Madonna quant'è Madonna è incazzatissimo Questo qua Wow Frat Ma sono gigantesco Di spaccodut Photoshop Madonna non l'hanno photoshopato L'hanno colorato Io Io quando mangio Dalla nonna Io Io quando mangio Che devi farmi fare il turno Che devi farmi fare il turno Sul game cube Molto bello Onestamente molto bello Oh mio dio Queste sono le mutande del sesso Anche queste È pieno di mutande del sesso Oh queste sono quelle che ho preso Io credo Ma Ma che cazzo Ma che cazzo Raga Non capisco se sia geniale O se sia la peggior stronzata Raga Il paracadute per correre Ma è spettacolare Questa cosa è Cioè Cioè raga Ma è magico Il paracadute per poveri Onestamente lo vorrei provare Ma non è propedeutico La roba che dobbiamo fare È questo Scusate Eh Ti fa i muscoli Ti fa finta di avere i muscoli Ti fa finta di avere i muscoli Buah Ci sono un sacco di queste barre Per i tricipiti Non so perché C'è un'altra di queste cose Culetti Pantaloni brutti Altre bande Gli anelli Gli anelli per Per la ginnastica È molto felice di usarli Lei meno Lui non tanto Lei è un po' stanca Lui è distrutto E lei sta guardando qualcun altro Lei ti guarda nell'anima Mentre usa i cosi Non eroticamente Quel paracadute si usa per alcuni sport Di velocità su ghiaccio Ma orido Beh questi non me ne faccio niente Perché non so dove metterli Questa borraccia Un quarto di gallone Un quarto di gallone Ah un litro E una bottiglia Una borraccia Brutta Fa molto ridere Decide to go Drink simply No excuse Keep drinking Don't quit Cioè che cazzo vuol dire? La voglio continuare a leggere Ok Don't quit You did it Va bene Grande Grande Una sborra... È una sborraccia Geniale C'è un pallone Bruttissimo Un pallone che gonfi con la... Ma cos'è? A cosa serve? Ma che... Lo devi gonfiare con una cannuccia Scusami Ma ti prego Ma dai Ma non devi gonfiarlo con una cannuccia Zio Pera Questa è una roba per fare gli adduttori Ah puoi anche farci il petto Le braccia con lo stesso esercizio La schiena? Ma non è vero Ma come la schiena? Ma che cazzata dici? Ma dove la schiena? Ma che puttanata Ma fermi tutti Ma come? Ma come la schiena? Ma fra Ma non è vero Ma cosa puoi allenare di schiena Con quella porcata? No vabbè Questa cosa mi ha devastato Non puoi farci gli esercizi dalla schiena Ma anche le braccia che ti dice qua Quello che sta facendo così è petto Per il braccio dovresti appoggiarlo qua e Puoi fare un po' di tricipite Ma male Non è che porcata questo Brutto forte Ami Amichetti E' la felpa degli amichetti Questa raga Amichetti felpa Amichetti felpa Calzini Bici Le bande per fare la spaccata Gli uomini lo adorano Per avere il culo da Da Tiktoker Ma che cazzo E questo? Ah questa è una roba che ti ciuccia il grasso Ah è ad ultrasuoni E a infrarossi anche Fa anche una sega Già che ci sei Fa tutto Sì sì Cioè ci credo Gli ioni Tolgono Lo sporco La polvere E i pezzi di cosmetico Dalla faccia Eh sì Il raggio infrarosso Può aggiungere energia Alle cellule E le fa riparare Più in fretta Ma vaffanculo Ma che cazzo Vuol dire Ripara la pelle Ah ecco qua Ci sono Diverse luci Led Che Fanno diversi effetti Eh raga La luce rossa Eh Fa ringiovanire Migliora l'attività cellulare E fa Creare più collagene La La cosa verde invece È sedativo Può calmare E mettere E tranquillizzare La pelle sensibile Irritata Quella blu è antinfiammatoria Può sterilizzare la pelle E uccidere batteri E togliere l'acne E ti fa anche una sega Mentre lo fa Quella gialla È all'effetto A parte che è rosso È la ste Cioè È identica Fa Ha un effetto Rosseggiante Può Aumentare L'ossigenazione Delle cellule E Migliorare Il tono Muscolare Che cazzo fa Le Ma fanno le seghe Sti cosi La Luce viola Purifica Ah Detossifica Eh sì 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 Mentre quella ciano Che non è quella blu È energizzante Ma raga Ma perché Cioè Cioè Perché non l'abbiamo comprato tutti Cioè Troppo noi raga Poi che altro c'è Vediamo Vibra Ad alta frequenza Sì Le frequenze radio Eh sì Che entrano nei muscoli Infatti Quando voi utilizzate la radio State diventando muscolosissimi Cioè raga Questa roba Cioè È troppo Cioè raga Questa è Una roba Cioè Cioè pure Puoi farti persino Un Il defibrillatore Fai da te Eh sì Porca puttana Che troiata Questa Questa mi fa Proprio cringiare Land gripper Ma in realtà Land gripper Ce l'ho già Io Doi cazzo L'ho messo il mio Da qualche parte Ce l'ho il coso per la mano Che fa Useremo Queste mi piacciono un sacco Le Le corde Dove fai Stum Tum 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 Però in casa mia Mi sa che non ci stanno Purtroppo Non so perché Lui è tristissimo Lui è distrutto Cioè È È morto È morto Ha visto Ha visto la madonna Wow Super coperto È una Corda di poliestere Spessa È bella Thick Mi piace quando siete Thick Altri bicipiti Altri manubi Bru Manubi Manubi Butti Manubi Butti Per persona muscolosa Palesemente Photoshopato male Oltretutto Mi fa molto ridere Io non mi fiderei Ma Manco per finta Manubi Manubi Non ci sono Nella palestra Dove vai Nella palestra No Ce li ho Nella palestra Di jiu jitsu Ma non li uso mai Perché Non c'ho Testa di farlo Onestamente Ah Questa roba Scotch Kinesiologico Altre cose Della venum Finta A me fa troppo ridere Le cose Della venum Finte Cioè Porca puttana Raga Però effettivamente Io ho preso Fammi vedere Foto del cliente Quanto sono finte No vabbè Troppo Troppo Finto Sono Fintissimi Ma Perché Ma Gesù No Stasera niente sub Orion A quanto pare Fanno i preziosi Fanno i preziosi Gli amici Questo da 4 euro Cos'è Scusa Ah C'è da 4 euro La gege di prima Beh Allora Beh Allora Raga Che dire Che dire Dai 4 euro Ci sta anche Quanta roba abbiamo preso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beh Abbiamo un sacco di esercizi Se ti sei svegliato Pensando di voler iniziare Della roba con me Cioè Del casino con me Pensaci due volte Perché mi sono svegliato Con un desiderio Che qualcuno lo facesse Queste sono le tipiche magliette Da uomo forte Uomo strong Mi fa molto ridere Perché c'è questa E poi c'è quella di minecraft Quella degli unicorni E quella di qualcosa Ovviamente tutti gli americani L'hanno presa Assolutamente Assolutamente America momento America momento America momento E questo Nova Bep Photoshop Orribili Oh Cristo Il coso Per farti La faccia No vabbè Questa è la porcata Più grande Del mondo Questa è la porcata Più grande Del mondo Ma che Cazzo Che Quanto sono Photoshopate male Ste robe No io Io sono No Questo non ce la posso fare Questo penso sia Una delle più Belle cose Che abbia mai visto È Semplicemente Magico Un po' rumoroso Ma efficace Madonna Oh sì Mi piacciono I leggings A compressione Per il sesso Selvaggio E questo Ah sono le calze Da trampolino Yeee Le calze da trampolino Boing 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 Molto bello Quelle Quelle mi piacciono I guantini Ah i guantini da ciclismo Però è vero I guantini da ciclismo Extra chad La La cosa per Per sudare La sweatsuit E tra parentesi Anche quello Sudare Non è che faccia Proprio dimagrire Passivamente Eh raga Dimagrisci quando Con lo sforzo Sudi ma perché Significa che stai Facendo fatica Questo fa perdere peso Se sudate tanto Perdete peso Ma perché perdete liquidi Fine Un sacco di cose Che la gente è convinta Che funzioni Ma che non funziona Propriamente così E mi fa sempre molto ridere Perché Cioè a me dispiace Perché magari Anch'io ci ho creduto In passato Comunque non mi si era caricata La storia di wish Raga Grazie che me l'avete detto Bastardi E questo Ah questo è per appendersi Sì Questo in realtà Non sarebbe Cioè Può avere una sua utilità È come le fasce Di prima Solo di plastica Non sono malissimo Queste possono avere Una loro funzione Perché effettivamente I miei polsi Sono fatti di merda Dato che me li sono rotti Tre volte nella vita Perdiamo i liquidi Delle palle No Lì c'è la pipì Eh raga Raga Scusate Stavo pippando duramente Oh Questo è per l'allenamento Prendo questo Raga Questo non è male Perché dopo Dormiamo per sempre Oh no Se la pipì Nelle palle Dov'è la La V Che carino questo Ce l'aveva tipo mio nonno Lo tenevi sotto la scrivania Sotto il divano E fai gli esercizi Alle gambe Che Questo è Extra Chad Guardate Quanto è triste Cristo Oddio È troppo triste Quest'uomo Quest'uomo È distrutto Quest'uomo È demolito Ha visto la madonna E la madonna Ha visto lui Madonna Mia donna Lo uso per la riabilitazione Dopo l'intervento delle ginocchia Visto Visto No questo è figo Questo io lo approvo E questa invece È la mini biciclettina Verni Small Bicicletina Yes Very small 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 Oh questo è il pad Per i pugni Il pad per i pungi Fatto malissimo Orribile Però è il pad per i pungi Raga Ma queste? Cosa sono? Le stringhe lumino? No vabbè Le stringhe Bellissime Cioè queste onestamente Non sono No capsule Una grande cosa Sembra una ciabatta Quel pad Puoi usarlo anche come ciabatta Effettivamente Ho un'altro coso del sesso Però senza la retina Questo è un po' meno del sesso Raga La compro quindi Per fare il grande sesso Forse è meglio di no Scusate non volevo Enlarge oil No questo è un coso Per far diventare Il cazzo più grande Questo è per far diventare Il cazzo più grande Questo secondo me Ti fa cadere L'uccello Raga Te lo fa proprio cascare Fall the people Ah questo La pallotta da box Che attacchia Al soffitto Yes Per dare i pugnetti Compro e facci sapere No raga Passo per oggi Non so perché Ma passo Fasce fa Beh sì Che ti devo dire Hanno scelto il modello giusto Però che cazzo Questo è bello Io non posso usarlo Perché in casa Non ho una porta adatta E comunque non mi fiderei Non so perché Ma non mi fiderei Di una roba Che si attacca Sopra la parte Di legno Tenuta insieme Dallo spirito santo Pantaloncini sneakers Ho evitato di guardarle Se non volevo Che cazzo è sta roba Connettori Per fili di saldatura Ok Pensavo fossero siringhe Onestamente Mi sono troppo Cagato in mano Troppo cagato in mano Questo che toglie Le occhiaie Con photoshop Un culo La schiena che fa male Patella Nipaz Sì Patella Molto bello Per la patella Giustamente Patella Quanto sono belle le patelle Raga Io amo le patelle Io sono grande fan Delle patelle E questo No vabbè È una carrucola Che attacca il soffitto E ti puoi mettere i pesi È carina sta roba È onestamente simpatica Se funzionasse Ma aspetta Che cazzo vuol dire Cioè il pushdown Lo capisco Ma l'altro metodo Secondo me è una porcheria Se fai Il tric Cioè qua ti fa vedere Dove sono i muscoli Perché con questo esercizio Fai esclusivamente i tricipiti Però invece fai Spalle Tricipiti Bicipiti Addome Io ho una sbarra del genere Ma funziona a pressione È quella che si attacca Ai lati solo Porca puttana Io non ci salirei Manco per sbaglio Palese Che si spacca Palese Vediamo un po' Che altro c'è Oh C'è un'altra roba Per il sesso Raga Effettivamente Un po' mi mancavano Ci sono diverse cose Per il sesso Molto sesso Hai già visto il coso Di Wish che ti ho mandato No Grifon Ci sono le clip Cos'è questo aggeggio Dog training collar Ah è il collare A shock Troppo noi Lo posso usare Per la palestra Non so in che Funzione Ma posso Cioè È così No Sì Oh c'è anche questo qua Di nuovo Oh C'è un cagnolini È la cintura domestica Da cintura Per i cagnolini Che carino È molto felice Eh Cagnolino Cagnolino Photoshopato male Cagnolino Photoshopato il male Cagnolino Molto bello Ha provato questo Questo cos'è Per tirare i pugni È per Per Airsoft Se immaginavo Guanto per il pugno Non credo Sarebbe molto In caso di incidente Vabbè Orion Fatti i cazzi tuoi Erano carini I cagnolini Ah questo è sempre Il mio coso Solo con Con L'accessorio Per la porta Porta Madonna Scusate Eh Il grattino Per la schiena Questo è veramente Bello Il gratta schiena A forma di manina È bellissimo È la madonna Ti scortichi Ti uccidi Ti togli la vita Cos'hai comprato Finora Ho delle fasce Per le gambe Una roba strana Che usi per i piedi Una felpa brutta La barra Dove fare i push up Un robo per misurarci I muscoli Delle fasce Un coso da spingere La pallina E un altro coso da spingere Ci sono delle cose strane Facciamola Diciamola così La powerball Che cazzo è Si illumina Metti la stringa rossa Nel buco Tirala Cioè arrotola E poi tirala Step 2 Fai abbastanza veloce Che inizi a girare Poi metti la mano E poi falla ruotare Sentirai che ti Ti gratta Contro Il dentro Del polso Ma che cazzo Vuol dire Che cazzo Vuol dire Ma non Ma Va bene Sembra utile No vabbè Il coso per i pugni Gonfiabile Non serve a niente Ma è palese Che non resti fermo Cioè questo Gli dai un pugno E vola nell'iperspazio Ma perché dovresti Ma è inutile Ma 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 scusami Che cazzo Vuol dire È la peggio Porcheria Molto Molto bello Però molto Molto inutile La maglietta Della corona Indossata Da Fabrizio Corona Secondo me Un'altra Roba per le Trazioni Regali Di Natale Per uomo Barra Trazioni A doppio Uso E come fai A doppio Uso Se lo fissi A parete Dov'è che lo metti Scusa Sì è una pull up station E anche una deep bar Sì ma dove Cioè come fai A fargli cambiare base Ma che cazzo Ma che cazzo vuol dire Ma che cazzo vuol dire Ah la puoi anche buttare per terra A sto punto La butti La lanci Qui c'è una specie di porta cellulare Porta documenti Che ti renderà sicuro il fatto di Non scopare mai Ma neanche per sbaglio raga Neanche l'idea del sesso Ho Guantini da MMA Non credo Ragazzi sono sicuro che siano Effettivamente Adatti allo sparring Adesso vi faccio vedere Un paio di guantini Da MMA Veri Cioè Guantini veri Funzionano In qualche modo Questi sono effettivi I guantini da MMA Scusate Mo faccio il cacca cazzo Come al solito Perché sapete che io In realtà mi diverto da morire Questo è Guantino MMA Guantino destro MMA Ora È il più spesso Da sparring Perché io ho la mano pesante E sono Abbastanza ciotto Quindi ho preso quelli grossi Però capite che è un po' diverso Cioè È questo Io usavo i guantini da box per MMA Anch'io i guantini da box Questi sono quelli da MMA proprio I guantini da box Li ho per sparring Ma È diverso Il bear tra rissa No io non faccio le risse Io sono patatone Io non faccio a botte con nessuno Raghi Non fate più strane idee Io sono bravo e gentile Cioè Sono molto carini vero? Cioè li ho presi più neutri possibili Perché a me non piacciono quelli strani Però Li ho presi neri Conto base Dove cazzo ha il pollice? Eccolo qua Scusate C'ho le mani ciotte Ecco Come vedete Questi sono un conto Cioè Quelli Se dai un pugno Ammazzi qualcuno Con questi non fai niente Cioè questi Servono a questo Sono morbidosi Vedete? Tutututututututututu Sono morbidi Anche se tiri un pugno un po' più forte Che bello Oggi non sono riuscito ad andare a MMA E sono molto triste di sta cosa Mi sarebbe piaciuto Dare i pugni è divertente raga Andate anche voi a fare a botte Pugni Per violenza domestica in tutta sicurezza No Per quello Cioè la sicurezza che ti importa è la tua Usa un manganello Scherzavo Allora aspettate che Meglio Tutorial come diventare stupidi Come ti permetti Io lo ero già da un pezzo Cioè che cazzo Non ho capito Sono d'accordo Lo penso anch'io Viva la droga Non è vero Gattino dietro Sì micio balcone sempre Lui è molto felice di guardare fuori dal balcone Gli piace un sacco Micio vieni a fare il ciao Vieni Ciao Bellino che sei Vieni a fare qua Momento gato Momento gato Quao Quao amichi Quao Mico mico Mi petto È il momento Micio Mici per tutte età Miau 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 Mi sta sopportando ma mi odia in realtà Amicetti Sì lui è il momento miau miau Dove sono le gattine di Bertra Che così Ferdi Può essere anche lui un gattino di Bertra Scusate Andando avanti Dopo questi orribili guantoni da box Da MMA Cazzo che è La faccia di Ferdi piango Vabbè o raga che cazzo E niente raga In realtà penso che le cose da palestra che volevamo prendere le abbiamo prese Potrei fare l'ordine Potrei fare l'ordine Che ne dite Faccio l'ordine Feccia presente Brava mela Mamma mia Quanto mi fai felice Allora a me servirebbe uno sconto Offerte lampo Gira Vediamo se ho degli sconti Scusate Va bene tutto però 20 prodotti per le tue offerte Ah Ah Non è quello che mi interessava allora Sì non me ne frega un cazzo Porca puttana raga Ma perché mi vuole comprare queste cose Non io che ho letto Vitamina C Facial Sperm Scusate devo smetterla Express Popolare No Visualizza carrello Compra ora paga dopo No penso che pagherò per intero Dove sono? Dove posso mettere? Applica un coupon Vediamo se c'è un coupon Scusatemi eh Mia mia o gattina di Bertano numero 4 Bravi bravi Vediamo se Wish ha dei coupon che posso usare Che di solito dall'app me li dice Da fisso no Raga qualcuno ha Un coupon Bonus login giornaliero? Boh magari mi dai un Dei coupon Non mi dai coupon Voglio i coupon Vediamo se me li trovo su internet Wish coupon Che va bene tutto ma col cazzo che mi metto a Mostra codice Copia il codice Vediamo un po' se Wish 20 funziona Dai io ci credo Bono 13 euro in meno Vai così Vai così che risparmiamo dei soldi Troppo noi raga Perfetto Allora Metto schermo intero Che intanto faccio le cose tipo Mettere l'indirizzo di casa Queste cose qua Che magari sono cazzi miei E non vostri Cioè fate i cazzi vostri Allora Italia Lombardia Milano Questo è il mio codice Postale Perfetto Perfetto Grazie.